Ultimi posti per il concerto di Emma Morton, sabato alle 21 la cantante che ha sorpreso tutti con la sua bravura durante il Talent X Factor salirà sul palco dell'auditorium del Ciocco per il secondo appuntamento del festival Unplugged Autore. I quasi mille posti a sedere stanno finendo velocemente ed è già Emma Mania. L'artista scozzese Barghigiana di adozione proporrà alcuni brani inediti e le canzoni che l'hanno resa famosa durante il Talent Show. Al suo fianco ci saranno gli Angry Penguin ma anche un ospite inatteso salirà sul palco insieme ad Emma durante la serata. Attualmente è impegnata nel suo album d'esordio che conterrà sei brani, cinque cover e un inedito Daddy Blues già campione di incassi su iTunes. I biglietti sono ancora in vendita online su Booking Show presso la Proloco di Castelnuovo e agli uffici di Itimera in Piazzale Verdi a Lucca. Mentre sabato sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al Ciocco.